Pensiamo che sia un risultato importante dei lavoratori della tenuta unitaria di questi mesi. Le lancette si riportano esattamente al 30 maggio, ci impone che lo sciopero di domani sarà ancora molto più forte perché la ragione di questo territorio sta esattamente in quello che abbiamo detto. Non c'è solo la vicenda Whirlpool che va trovata una soluzione, questa non è la soluzione, è un modo per trovare una soluzione e questo è un passo avanti importante, ma rimangono le ragioni dello sviluppo nell'area metropolitana che sono le ragioni dello sciopero. Noi non possiamo arretrare di fronte a Vicente che vedono e quindi lo sciopero ha una compattezza, ci incoraggia ancora di più a far bene domani.